Giron Giorgio 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 Giorgio Giron Giorgio Giorgio Giron Giorgio Giron Giorgio Giorgio Giron Giorgio 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 Gior Alan Giacomelli come in tutto il gruppo e poi ti ha preceduto Manzoni però sempre un gruppo buono, autoritario, molto bene diciamo Sì, sono sempre stato con i primi, ho cercato di tenere il passo dei più forti in salita e poi per fortuna c'erano questi arrivi in volata che mi si addicono abbastanza quindi come piazzamenti sono più che soddisfatto Dedica per questa maglia, a chi va? Va alla famiglia, poi alla squadra, soprattutto gli accompagnatori, l'anatore e il mio compagno Righettini che è stato il mio unico compagno di squadra anche se siamo in sei e quindi se ne sono bastati due ricorridori ma ci abbiamo fatto portare a casa la maglia Grazie a tutti